Grazie Presidente, ma guardi velocemente per dichiarare il voto favorevole del Movimento 5 Stelle e per due brevissime sottolineature. La prima è che potrà anche essere vero che si fa risparmio rinunciando a qualcosa, ma pagando i debiti fatti da altri. C'è pure chi ha fatto 20 miliardi di debito e ha costruito le vele di Calatrava e paghiamo gli interessi anche su quelli con una gestione commissariale fatta apposta. L'altra cosa è al collega che prima parlava delle alleanze. Mi sembra che con la Lega di Matteo Salvini qualcuno dichiara di aver vinto le elezioni con un contributo solo del 4%. Grazie.